Dal 26 al 30 settembre si terrà a Imperia il corso tecnico ufficiale per assaggiatori di olio d'oliva o NAO. Il corso sarà tenuto da professori universitari, ricercatori e professionisti del settore oleario. Il corso tecnico è il primo passo del percorso formativo o NAO per accedere all'iscrizione nell'elenco nazionale degli assaggiatori di olio d'oliva. Se vuoi approfondire la tua conoscenza o sei interessato ad entrare nel mondo professionale dell'olio d'oliva, iscriviti subito!